Buongiorno, ben trovati. L'ordine del giorno rega l'audizione del presidente e amministratore delegato della Capi Cattaneo, Alberto Villa, che avrà come oggetto le tematiche trattate dall'indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare, nonché sulla web tv della Camera dei Deputati. Saluto e do il benvenuto al presidente Villa, che ringrazio per la sua disponibilità. Saluto i colleghi presenti e i colleghi che parteciperanno secondo le modalità stabilite dall'aggiunta per il regolamento del 4 novembre 2020, ai quali rivolgo l'invito a tenere spenti i microfoni per consentire una corretta fruizione dell'audio. Ricordo che dopo l'intervento del nostro ospite darò la parola ai colleghi che intendano porre domande o svolgere osservazioni. Successivamente il nostro ospite potrà rispondere alle domande poste. A tal proposito chiedo ai colleghi di far pervenire la propria richiesta al Banco della Presidenza già da adesso. Cedo quindi la parola al presidente Alberto Villa. Prego, presidente. Buongiorno presidente, buongiorno a tutta la commissione. Mi ringrazio moltissimo per questa opportunità davvero importante. Come dicevo sono Alberto Villa, sono entrato in azienda nel 1980 come giovane disegnatore. Oggi sono presidente, amministratore delegato e recentemente ne sono diventato proprietario acquisendo il 100% del capitale azionario dopo la procedura Golden Power. Possiamo avviare la presentazione? Grazie mille. Perfetto. Una breve descrizione degli argomenti di cui vorrei trattare ma sono ovviamente disposto a condividere con voi qualunque variazione. Cabi nasce a Milano verso la metà degli anni 30 ed è tuttora nella stessa sede storica. Siamo rimasti l'unica azienda nella zona. Da sempre progettiamo e realizziamo i mezzi speciali per il gruppo operativo incursori della Marina Militare, le nostre forze speciali. Siamo totalmente nazionali, siamo 62 persone che con molte persone lavorano in azienda. Abbiamo per alcune famiglie la terza generazione in azienda, visto anche la riservatezza del nostro prodotto. Ci basiamo moltissimo sulla fidelizzazione del personale e sui rapporti supporto delle famiglie. Quello di cui vorremmo parlare oggi, pur consapevoli che siete tutti specialisti, è un settore particolare dei veicoli subacquei, quelli che vengono chiamati mezzi insidiosi pilotati per le operazioni speciali navali. Cercando di raccontarne un po' la storia, ma lasciando poi agli specialisti la trattazione delle imprese e dei nomi degli operatori. E' per noi davvero un onore essere a fianco di questi uomini che lavorano sempre nell'ombra e quindi è difficile anche capirne le capacità. Da dove nascono questi mezzi? Perché questa necessità? L'Italia, come sapete, ha sempre avuto poca disponibilità di risorse per le forze armate e spesso si è trovata impegnata in conflitti che vedevano veramente dei nemici potenti. E quindi già nella prima guerra mondiale due ufficiali di marina, Raffaele Rossetti e Raffaele Paolucci, che erano un ingegnere o un medico, pensano di individuare, di inventare qualcosa che possa creare dei gravidani alla flotta austriaca veramente potente. Quindi modificano un siluro e con i pochi mezzi dell'epoca la tecnologia non era così sviluppata, lo conducono fisicamente muovendosi, utilizzando un motore d'aria compressa per sfruttare la silenziosità, praticamente lo dirigono dove devono arrivare. Ovviamente l'uomo stesso è un mezzo speciale, come oggi l'incursore di marina è un mezzo speciale. Si può considerare la mignatta il primo mezzo speciale della storia e con una spesa veramente ridicola è stato inflitto un colpo durissimo alla flotta austro-ungarica, visto che ne è stata fondata la corazzata Biribus Unitis. Da lì a poco la firma dell'armistizio e la guerra aveva già le sorti segnate, ma è stato inflitto veramente un colpo fortissimo al morale del nemico. Qualche cenno sulle tecnologie oggi disponibili. Quella che vedete in basso a sinistra è una prima versione di un trascinatore che si chiama elementare, è stato proprio realizzato in Cabicattaneo, era un mezzo veramente rudimentale. Ricordiamoci che, contrariamente a quello che pensiamo noi tecnici o imprenditori del settore, che tendiamo a considerare il viaggio, la missione, la missione per l'operatore comincia dopo. Quindi noi abbiamo il dovere di far giungere questi uomini al punto di missione, stanchi, non stancati dal nuoto, ma pronti per essere poi impiegati nella missione. Ovviamente oggi ci sono delle soluzioni più avanzate, come vedete sulla destra. L'energia delle nuove batterie consente delle trasferte più lunghe e il supporto della strumentazione, quindi a livello di sistemi di navigazione subacquea, ha fatto dei passi avanti. Quindi l'uomo deve arrivare pronto. Adesso saliamo un po' di categorie, saliamo un po' di dimensioni, quindi qui vediamo quello che sulla sinistra veniva chiamato siluro a lenta corsa o lunga corsa, dipende dai periodi, era veramente l'evoluzione della mignatta. Poi lo vedremo più avanti anche come contributo dell'ingegner Cattaneo di Cabicattaneo, Guido Cattaneo, in questo caso che è stato un uomo della decima massa. In questo caso possono trovare posto due uomini e i sistemi d'arma che poi vengono collocati sotto la nave. Sulla destra invece si vede una versione moderna di quelli che vengono chiamati SDV, è un prodotto di cui c'è stata autorizzata la divulgazione. Ovviamente è un po' nascosto per questione di riservatezza, quindi tutto il mio speech di oggi sarà condizionato da questa difficoltà nel poter esplicitare alcuni argomenti come potete ben immaginare. Il nostro contratto attuale che avete analizzato lo scorso anno con il riferimento SMD 0519, so che ha avuto una lunga trattazione, è classificato segreto, quindi cercheremo di illustrare quello che si può. L'importante è capire che questi oggetti sono di grande ausilio l'uomo, ma l'uomo è sottoposto a uno sforzo enorme, l'uomo è immerso nell'acqua. Quindi non stiamo parlando di sottomarini classici, ma stiamo parlando di veicoli trasportatori che devono consentire all'uomo, che quindi è dotato di sistemi di respirazione, tutte le apparecchiature sono immerse nell'acqua, di giungere alla missione nel miglior stato possibile. Sembra banale, ma dire che l'uomo deve arrivare in quel punto a quel determinato orario non è così scontato in questo mondo. Comunque le versioni moderne ovviamente si avvalgono di strumenti molto più precisi. Come logica assomigliano ai sottomarini dal punto di vista funzionale per l'immersione, l'immersione quindi hanno delle casse, zavorano delle casse rapide per l'immersione e che l'acqua lambisce ogni apparecchiatura. Questa è una versione speciale di mezzi subacquei, vengono chiamati ibridi o a doppia propulsione. L'Italia ne è praticamente l'inventore e Fabi Cattaneo ha contribuito con l'ingegner Guido Cattaneo proprio alla nascita di questi di questi veicoli. Questo in particolare è stato fotografato nella foto di sinistra durante la vista del presidente Ciampi al Varignano a Consuvin negli anni 2000 e i fortunati spettatori raccontarono di vedere uscire questo enorme motoscafo dall'acqua, quindi è emerso completamente invisibile e dopo qualche minuto è partito da altissima velocità. Ovviamente c'è grande riservatezza su questo oggetto e ancora oggi non si comprende chi lo costruisce. Sulla destra è invece una rappresentazione che è stata attribuita a Cabi del sito Coverture che è un sito inglese altamente specializzato e a volte anticipa il progetto, sì, è veramente competente ed è un riferimento nel settore. Scusate, torno un attimo indietro. Ecco, quello che è importante da dire per questo tipo di imbarcazione è che oltre alla motorizzazione elettrica che caratterizza tutti i veicoli subacquei, in questo caso per offrire un'autonomia più lunga l'imbarcazione è dotata anche di motori termici. Alcuni dicono che il primo avesse dei motori a benzina mentre i più recenti hanno dei motori visi e i turbocompressi che ovviamente devono essere submarinizzati, quindi attorno a questo motore deve essere creato, non voglio usare termini inglesi oggi, una scatola, un contenitore e quindi tutti gli impianti immaginativi cosa vuol dire mandare un motore sott'acqua, quindi sistemi di aspirazione dell'aria, evacuazione, diciamo una tecnologia tutta nazionale che il mondo ci invidia. Cabi è, diciamo, tra le cinque aziende al mondo a produrre questi oggetti. Ovviamente non potremo illustrare veicoli ma siete tutti invitati a visitarci e lì sarà possibile veramente condividere quello che facciamo. Qui invece siamo nell'ambito dei mezzi cosiddetti asciutti, questo è un piccolo sottomarino, diciamo concettualmente stagno, quindi l'acqua non lambisce l'apparecchiatura e l'uomo, l'uomo può respirare, sono dei veicoli definiti midjet perché non sono, diciamo, della stazia degli attuali 212 NFS che conoscete benissimo ma sono più piccoli, quindi sono più flessibili, utilizzabili in acque più ristrette e è un momento, diciamo, di grande interesse per questi veicoli, così come per gli SDV, anche per questo SDV significa Swimmer Delivery Vehicle che è come vengono definiti i nostri oggetti. Invece in questo caso parliamo di midjet, quindi sommergibili, sottomarini ma più piccoli, quindi immaginiamoci di vedere questo piccolo oggetto che a sua volta può trasportare dei veicoli avvicinatori, quindi gli operatori del sottomarino e gli operatori incursori si trasferiscono in condizioni di totale protezione. Ricordiamoci che per tutti i mezzi che produciamo noi e quelli che vedete, diciamo, distribuiti su internet e nei vari siti, si basano sempre su avvicinatori. E' importantissimo il concetto di avvicinatori, quindi per Cavi l'integrazione, l'interfacciamento con i sottomarini, stiamo lavorando con fincantieri per la nuova linea di sottomarini con il coordinamento di IOCAR, è fondamentale perché questi piccoli oggetti non possono affrontare delle lunghe traversate e delle lunghe navigazioni. Qui entriamo nella storia di Cavi. Allora, la foto di sinistra è una foto che ricorda l'ingegner Giustino Cattaneo che ha fondato Cavi Cattaneo. L'ingegner Giustino Cattaneo è di origini venete, viene a Milano perché ha bisogno del supporto tecnico che offre appunto l'Università del Politecnico di Milano e con altri imprenditori del Lago Maggiore, dove sta nascendo il polo aeronautico, creano dei circoli di progettazione. L'ingegner Cattaneo Giustino è stato poi responsabile del progetto della Isoda Fraschini 8A che in quei tempi era considerata l'Aaron Royce italiana. Ha inventato il freno sulle quattro ruote motrici, è stato lui uno dei primi ad applicarlo e ha sviluppato tantissimi motori anche in ambito aeronautico. Al centro potete vedere l'idrovolante Siaia Marchetti che montava due motori della serie ASSO, lui ha chiamato tutta la serie dei suoi motori ASSO, famosi questi idrovolanti per le trasvolate atlantiche. In azienda abbiamo una foto dell'ingegner Cattaneo del 1907, che è appunto il giovane progettista, era già al tavolo da disegno. Importante dire che la tecnologia aeronautica derivante dalla sua esperienza è stata poi applicata a tutti i mezzi di Cavi per la prima volta, quindi in ambito marino si cominciavano a utilizzare leghe leggere, materiali particolari. Sulla destra si vede il figlio Guido, quello con la cravatta, che viene inviato in Russia perché la Russia voleva nominare Giustino Cattaneo, direttore tecnico del loro dipartimento tecnico. In quel momento invece Giustino Cattaneo è stato invitato a lavorare in Alfa Romeo e quindi ha deciso di lavorare in Alfa Romeo. Una curiosità, il fratello Romano Cattaneo è quello che ha suggerito di mettere il bischione di Sconteo nel logo dell'Alfa Romeo. Quindi se avete modo di visitare il museo dell'Alfa Romeo c'è questo cenno. Questi ricordi che abbiamo in azienda, le due fotografie di sinistra, sono il ringraziamento del comandante Rizzo, chiamato la fondatore perché ha partecipato a tantissime imprese storiche, coi mass, veramente delle attività storiche, quindi stiamo parlando di l'impresa di Trieste, stiamo parlando di Premuda, la beffa di Bucari e ringrazia personalmente Giustino Cattaneo per avergli concesso la possibilità di effettuare queste operazioni. Al centro è invece un'altra chicca, quella che ci onora molto perché l'ultimo presidente di Cabi Cattaneo è stato l'ingegnere Bruno Orlando che poi ha ricevuto la medaglia d'oro al merito di Marina, discendeva dai cantiere Orlando di Livorno, nipote di Guido Cattaneo. Sul MAS che vedete al centro, dove si vedono le firme di Luigi Rizzo, Gabriele D'Annunzio e Costanzo Ciano, c'è ringraziamento perché il MAS era costruito nei cantiere Orlando e il motore era progettato da Giustino Cattaneo, quindi per noi è stato lo massimo del riconoscimento. Sulla destra invece il MAS perfettamente conservato a Gardone Riviera al Vittoriale. Alcuni progetti, in questo caso del figlio Guido Cattaneo, che ho avuto la fortuna di conoscere, io sono entrato in Cabi nell'80 e l'ingegnere Guido Cattaneo era direttore tecnico in quel periodo e purtroppo ho deceduto nell'84 e ero un baldo giovane, per cui mi hanno messo tra i quattro che hanno avuto l'onore di portare il feretro nella tomba dell'Ardenza a Livorno, quindi mi sento particolarmente fortunato per questa esperienza. Appassionato di motonautica, appassionato tecnico, prende tantissimo dal padre, comincia a interessarsi agli aspetti della velocità e inventa oggi un sistema che ancora oggi a livello propulsivo è considerato una rivoluzione, quindi c'era bisogno di cambiare, migliorare la spinta di questi veicoli e quindi ha inventato un sistema di trasmissione che permette di portare l'elica più in profondità e inventa quella che viene chiamata trasmissione Z. Si basa su una doppia elica controrotante con un sistema di ingranaggi che non sto a raccontarvi ora ma in azienda abbiamo tutti i disegni anche qui, mi invito a vedere perché sono veramente dell'innovazione, sembrano talmente banali ma risolvono poi il problema della guerra, si vede più tardi. Quindi corre la Pavia Venezia e con il suo motoscafo Asso consegue dei record di velocità all'ora impensabili, 150 km all'ora. La foto di destra lo riprende a D'Angera sul Lago Maggiore perché prima dell'avvento del GPS le basi misurate erano fatte da cronometro e bandierine, quindi per sapere quando facevi il record c'erano dei sistemi manuali. Era una persona veramente severa, veramente attenta al lavoro perché essendo stata una decima mass, era consapevole che gli errori in progettazione o le superficialità durante la costruzione potevano costare la vita degli operatori. Qui cominciamo a entrare nell'ambito militare e quindi ci si rende conto che serve qualcosa di più sempre rimanendo in dimensione contenuti, in costi contenuti, per affrontare dei nemici questa volta diversi, quindi stiamo parlando degli inglesi, siamo nella seconda guerra mondiale e da un'idea di Emona di Savoia che appunto è stata una decima mass e lo vedremo poi nella foto era amico personale di Guido Cattaneo, chiede di sviluppare questa imbarcazione. Questa imbarcazione che viene chiamata Barchino Esplosivo nasce come al solito per coprirne gli scopi finali come Motoscafo Turismo, poi è stato realizzato in mille altre versioni Motoscafo Turismo modificato, allargato, sidurante, eccetera. Qual è il concetto? L'Italia, diversamente da altre nazioni, che considerava l'emissione suicide, ha sempre posto enorme valore per le risorse umane, anche perché ci voleva tempo a formare questi incursori e quindi decide di inventare questo oggetto che è stato progettato da Guido Cattaneo per tutta la parte meccanica propulsiva e con la collaborazione dell'amico Baglietto che era proprietario dei cantieri Baglietto. Quindi questo veicolo veniva lanciato contro le imbarcazioni nemiche, grazie alla trasmissione inventata da Cattaneo il mezzo era dotato di una notevole stabilità di rotta proprio per questa doppielica contro rotante e una volta bloccato il timone l'operatore si lanciava in acqua, a poppa c'era uno zatterino che permetteva all'operatore di non subire l'effetto dell'onda d'urto dell'esplosione, il veicolo colpiva la nave, una prima carica ne provocava l'affondamento e una volta raggiunta la quota tra i 5 e gli 8 metri un sistema idrostatico consentiva alla seconda carica di esplodere, quindi il danno veniva inferto sotto l'operaviva, quindi la nave non poteva sopravvivere. Ecco, grazie a queste operazioni sono stati conseguiti dei risultati notevoli nella Baia di Suda e in tantissimi altri posti. Ripeto, lascio agli esperti di storia e agli redi della decima flottiglia Mas della Regia Marina la descrizione dei nomi, sicuramente ne lo metterei qualcuno. Volevo parlare dell'aspetto tecnico, ma ricordando sempre che poi in acqua ci vanno loro, ecco quindi il nostro è un contributo, non dobbiamo prenderci troppi meriti. In questo caso è stato affondato un importante incrociatore York e anche lì è stato un danno morale enorme. Qui qualche descrizione della tecnica, ma andrò velocissimo, ecco sulla sinistra vedete questo piede poppiero che oltre ad avere quell'elica contro rotante, quindi due eliche, vedete che con quel volantino permetteva a questo sistema di ruotare e quindi si metteva in una posizione tale da permettere il superamento delle reti. Quindi era normale proteggere i porti con queste ostruzioni rettali, quindi questo volantino permetteva poi di sollevarlo, si passava l'ostruzione e si riabbassava e il mezzo procedeva. Nella foto al centro c'è quello che viene chiamato baffo che è stata una delle continue modifiche che permetteva di far brillare il primo barchino di una lunga serie, quindi si distruggevano le reti e gli altri barchini poi proseguivano. Qui l'effetto sorpresa era tanto e quindi si era già vicino all'obiettivo, non c'era il problema di avvisare il nemico, era talmente veloce e si era talmente vicino all'obiettivo che il problema appunto era quello. Nella foto di destra invece si vede, anche se in piccolo, che Guido Catania è stato brevettato dopo aver partecipato alla colonna Mokagata in Mar Nero, è stato brevettato pilota dei barchini esplosivi. È da lì che poi l'ingegner Catania ha portato in cavi la sua esperienza diretta che come sappiamo oggi fa la differenza. Guido Catania poi ha ricevuto la medaglia di bronzo al valore militare per le sue attività. In questo caso torniamo in ambito subacqueo. Come solito le idee arrivano da personaggi della marina, in questo caso Teseo Tesei, a cui è intitolato la base di Consubin. Nella foto centrale si vede oltre a Catania nel cerchio, a Mune di Savoia e poi si vede anche oltre a Teseo Tesei, Elio Stoschi che è l'altra persona che ha contribuito all'invenzione di questo oggetto. Il progetto era riservato, ovviamente si sono inventati i nomi di fantasia, in quel caso era progetto Trespolo e l'oggetto era totalmente elettrico. Vedete oggi, vedete sulla destra questo contenitore che viene chiamato shelter, all'interno del quale venivano trasportati gli SLC, appunto si dura lenta corsa e venivano imbarcati a bordo dei sommergibili, sottomarini per essere precisi. In questo caso dobbiamo ricordare lo scire che è un sottomarino davvero storico e davvero significativo per la marina militare che è stato affondato dagli inglesi. Nel 42, subito dopo che il comandante borghese ne ha lasciato il comando, dicono che ci sia stato un problema dovuto all'intercettazione di Enigma, di alcuni messaggi per cui a largo di Haifa il sottomarino è stato affondato con tutto l'equipaggio purtroppo ed è ancora oggi un duro colpo. Dal punto di vista strategico ancora oggi la logica non è cambiata, quindi mezzi speciali che vengono trasportati da sottomarini. In questo caso lo scire e alcuni sottomarini poi modificati ne poteva portare tre. Quindi immaginatevi che cosa vuol dire lavorare in missioni occulte vicino al nemico, dover sbarcare questo oggetto sott'acqua, a volte non funzionavano, c'era una tensione incredibile, a volte si lavorava in acqua fredda e quindi per gli uomini era veramente uno stress notevole. Il progetto ha avuto le origini nel 1927, poi è stato sospeso, alcuni esperimenti alimentari avevano fatto abbandonare addirittura l'idea, poi è stato ripreso più avanti e diciamo che la Marina ha coinvolto l'ingegner Cattaneo perché le idee erano ottime ma serviva una struttura in grado di riprodurre in maniera più precisa i componenti, quindi è stato è stato chiamato eh di nuovo l'ingegner Cattaneo. Nel centro vedete l'ammiraglio Birindelli è una figura veramente storica eh per quanto riguarda il mondo incursionistico eh nel dopoguerra le le clausole dell'armistizio ci proibivano eh eh espressamente di costituire le forze speciali. Visto i danni conseguiti eh ovviamente noi siamo andati avanti, l'Italia è andata avanti e è stata creata una sezione segretissima a Baccoli che si chiamava STA e eh sono stati recuperati quattro vecchi SLC eh da quelli dei materiali che si trovavano in giro. È stato costituito il primo gruppo che poi eh successivamente è stato trasferito a Conso che in dove oggi a a sede il comando su Baco Incursori. Nelle foto che sono state fatte nel Museo del Varniano, una bellissima sala storica, qui è ancora prima del restauro, anche quella se avete una mezza giornata suggerisco di visitarla. Nascono i primi mezzi come vedete non più eh che prevedono non più l'operatore a cavalcioni ma l'operatore all'interno, deve essere più protetto. Nel primo caso il mezzo in basso a sinistra si chiama TEC, eh le sigle di allora erano tutte molto fantasiose, eh trasportatore elettrico Cabi, ok? Era totalmente elettrico, poi è stata fatta una versione biposto, ma eh diciamo che nel 1958 nasce il primo mezzo ibrido, quindi viene chiesto di nuovo a Cabi Cattaneo di supportare la marina in questa idea e quindi in quello che vedete sulla destra, oltre al motore elettrico c'è anche un motore termico. Sono state fatte varie versioni, alcuni con dei motori fuori bordo su marinizzati, poi vista la profonda amicizia di eh Giustino Cattaneo con eh i tecnici dell'Alfa Romeo sono stati usati dei motori automobilistici a altissime prestazioni. Comunque diciamo che eh il primo corso eh delle nuove forze speciali nel mila del 1952 vede anche la nascita della nuova della nuova categoria, i piloti eh che venivano chiamati con nomi sempre molto molto toccanti, era conduttori mezzi insidiosi. Ancora oggi si chiamano piloti della CMI. C'abbia avuto un ruolo anche per la costituzione eh delle forze speciali israeliane. Eh c'era in quel periodo eh con eh l'avvalo del governo la necessità eh sapete dopo il mandato inglese la situazione israeliana era abbastanza caotica e quindi eh Israele ha chiesto il supporto eh dell'Italia, lì vedete eh Ben Nun insieme a Fiorenzo Capriotti. Fiorenzo Capriotti è un eroe della decima flottiglia MAS, ha avuto, è stato pilota e ha ha operato a bordo dei dei mezzi speciali e ha avuto un trascorso in cabi dove si è formato dal punto di vista industriale e poi è andato in Israele insieme a un altro operatore della decima flottiglia MAS e ha e ha costituito, ha addestrato gli operatori. Tant'è vero che anche oggi, ancora oggi la tredicesima flottiglia a comando ritiene Consubin eh un un'entità gemella, anzi realmente la 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 loro origine. C'è un bellissimo rapporto. Ovviamente per poter esportare queste imbarcazioni eh con cabi cattani o vista la attitudine della famiglia di lavorare nel campo della velocità sono state chiamate race boat e quindi sono state esportate come motore da corsa. Qui vedete eh una navigazione subacquea di quello che poi da loro era dagli israeliani è stato chiamato gang e anche ecco una precisazione tutte le foto che vedete sono ovviamente pubbliche, sono sono documenti che si trovano in rete o comunque autorizzati. Ecco in questo caso sulla destra è una bellissima foto di navigazione subacquea con le attrezzature che allora anche dal punto di vista eh supporto, maschere, respiratori erano veramente erano veramente agli inizi. È molto importante vedere per noi la stabilità della navigazione dell'oggetto. Questo per dire da dove arriviamo. Ora per quanto possibile eh vorrei parlare di quello che stiamo facendo oggi eh come sapete stiamo lavorando su un contratto pluriannale, il contratto ha una specifica tecnica segreta. Quindi eh come vi dicevo i dettagli saranno saranno omessi. Ora eh per quanto riguarda i discorsi che si sentono eh in giro per il mondo spesso spesso con molta confusione non è sufficiente disporre di questi mezzi per avere questa capacità. C'è bisogno di un altissimo eh eh grado di addestramento e una preparazione anche dal punto di vista infrastrutturale. Quindi oggi le nostre forze speciali della marina hanno tutto questo. Alcuni paesi che si affacciano oggi in questo mondo pensano che disponendo di grandi disponibilità economiche basta sia sufficiente a comprarli ma non è così. Quindi torno al discorso di prima immaginatevi l'acqua che lambisce per ore l'uomo. Oggi i mezzi hanno delle capacità più lunghe perché le autonomie dovute alle batterie. Noi usiamo delle batterie a litio da da un po' di anni e quindi eh sono allungate molto. L'uomo è sempre messo nell'acqua e pur avendo migliorato i sistemi di respirazione, i sistemi, ci sono anche dei sistemi di rispaldamento alla fine l'uomo è sottoposto a un grandissimo stress. Questa foto è la vista esterna dell'oggetto che appunto è stato per cui siamo stati autorizzati ad esportare e poi ne parlerò più avanti nelle nell'attività eh che stiamo portando avanti con il segreto elettrogenale della della difesa. Praticamente eh questi oggetti come vi dicevo vengono totalmente emessi quindi ogni singola apparecchiatura eh banalmente quello che è il display del computer di navigazione del sistema di navigazione devono essere presto resistenti. Il che vuol dire che hanno un contenitore tipicamente di lega leggera eh che deve essere in grado non solo di non fare entrare l'acqua ma di essere resistente alla pressione di trasporto. Perché? Perché come vi dicevo questi mezzi devono essere avvicinati devono essere avvicinati tramite eh unità di superficie quindi delle navi ma soprattutto subacque. Quindi quando il veicolo viene trasportato a bordo di un sottomarino tramite delle interfacce che realizziamo noi per tutto il per tutto il percorso la pressione dell'acqua agisce su tutte le componenti e quindi è necessario eh realizzare e progettare tutte le apparecchiature che siano in grado di funzionare dopo giorni di trasferimento sott'acqua. Quindi in questi casi si parla di pressione di collaudo e pressione di eh esercizio. Pressione di esercizio è quella quota dove gli operatori possono essere in grado di operare. E noi siamo eh molto orgogliosi di di questa tecnologia perché eh deriva da quasi 80 anni di di specializzazione e praticamente ogni dipendente dell'azienda considera gli elementi di tenuta come un fratello giamello. Come come vi dicevo ogni ogni apparecchiettura deve essere submarinizzata eh bisogna fare poi i conti con gli spazi perché ehm sono veicoli molto piccoli devono essere molto maneggevoli eh devono essere trasportabili e quindi eh il lavoro di miniaturizzazione è davvero maniacale. Ora noi abbiamo ancora in linea abbiamo ancora in fase di progettazione quell'altra linea di cui vi dicevo prima ibrida e eh stiamo lavorando su eh la submarinizzazione di un nuovo motore di potenza più che doppia rispetto alla linea precedente e questo potrà conferire alle nuove linee delle prestazioni decisamente superiori. Nel caso di veicoli ibridi eh dobbiamo considerare un'ulteriore complicazione che eh esula dall'aspetto eh di presso resistenza ma si rifà i principi di navigazione quindi noi dobbiamo realizzare un veicolo che sia in grado di operare in superficie quindi consentire dei lunghi trasferimenti e poi per la parte occulta immergersi. Quindi mentre i veicoli che avete visto prima eh lip shadow della foto è è fatto per lavorare praticamente quasi esclusivamente in immersione nel caso dei veicoli ibridi la foto bianco nero di cui vi parlavo prima la parte subacquea diventa eh minimale eh serve solo per ultimo per ultimo trasferimento. Quindi l'imbarcazione deve poter eh funzionare bene in superficie quindi problemi di bilanciamento dimensionamenti baricentri e eh diciamo è un grande è un grande compromesso. Andiamo se collabora. Ok se ne è andato troppo avanti. Ok. Qui invece è un'imbarcazione di superficie. Abbiamo sviluppato su eh requisiti di Consubin eh per l'interfacciamento con le fregate della classe Frem. Un'imbarcazione contro il terrorismo. È un'imbarcazione eh che è stata progettata con la collaborazione di altre aziende italiane fincantieri e calzoni che poi ha realizzato la sella per la quale la marina militare ha fatto il coordinamento insieme insieme allora ad Occa. Eh questo veicolo è totalmente italiano, è progettato da noi eh è in grado di superare i cinquanta nodi e ha delle caratteristiche particolari proprio per consentire questo eh recupero e rilascio semi-automatico. Durante la crociera del trentesimo gruppo navale Cavour eh attorno al duemila quattordici parecchie forze speciali estere hanno apprezzato la sinergia tra il battello e la nave. Sostanzialmente espone, riduce l'esposizione dal rischio eh degli operatori durante le fasi di recupero e rilascio. Sulla destra l'integrazione con il C-130 eh grazie a un semirimorchio ad assetto variabile che abbiamo progettato noi. L'interfaccia. Ecco, le interfacce oggi sono sempre più importanti perché come vi dicevo prima eh è necessario utilizzare dei mezzi avvicinatori. Nella foto che abbiamo visto prima del siluro a lenta corsa l'interfacciamento consisteva nel ricovero dell'oggetto. oggi eh interfacciarsi vuol dire interfacce meccaniche, sistemi assistiti di recupero e di rilascio del veicolo, sistemi di ricarica delle batterie, sistemi di scambio dati, sistemi di comunicazione. Quindi eh sulla base di questo stiamo lavorando in gruppo di lavoro di cui poi vi parlerò. Eh a seguito di alcuni eh problemi di che hanno toccato alcuni operatori della marina, alcuni incursori della marina, ci è stato chiesto di sviluppare questo shelter. come sapete eh le operazioni speciali necessitano materiale per poter essere attuate e quindi in alcuni casi prima di questo shelter il materiale doveva essere trasferito tramite la garitta per l'uscita del sondragibile e è un'attività molto rischiosa, ci sono delle limitazioni agli ingombri e quindi ci è stato chiesto di eh realizzare questo oggetto che potesse trasportare sia in asciutto che in bagnato le attrezzature degli incursori. In questo caso abbiamo fatto una piattaforma molto flessibile che utilizza dei sistemi che abbiamo realizzato appunto per il trasporto dei veicoli e questo sistema è eh di interesse di altre marine estere eh diciamo molto concreto di alcune marine estere. Questa è una rappresentazione di parte terza c'è questo famoso sito di cui vi parlavo prima cover shore che prendendo foto brochure colleziona inventa e quindi diciamo che ci va abbastanza vicino. Potete vedere eh il primo oggetto in basso a sinistra che è subito dopo la vera del sottomarino eh lo shelter di cui vi parlavo prima e poi hanno rappresentato questa specie di interfaccia nera con sopra quel veicolo. Ovviamente non possiamo ne confermare ne smentire ma diciamo che più o meno lo scenario potrebbe essere credibile. Capi poi realizza eh su licenza eh stiamo collaborando con un inventore italiano molto molto creativo delle antenne speciali per le telecomunicazioni e alcune molto molto compatte sono già a bordo dei nostri veicoli. Eh hanno anche un'applicazione terrestre per un importante cliente nazionale. vogliamo parlare un po' del del futuro di che cosa abbiamo eh di cosa abbiamo in mente. Eh siamo italiani quindi l'inventiva non ci manca mai e quindi dobbiamo eh tenere d'occhio eh quello che eh la il mondo tecnologico rende disponibile e ci basiamo sulla nostra esperienza e e poi spesso dobbiamo adattare. Purtroppo in Italia negli ultimi anni eh negli ultimi decine negli ultimi vent'anni sono venute meno alcune aziende che producevano sensori quindi è necessario andare all'estero. eh come sapete andare all'estero comunque espone eh tramite le richieste di specifiche tecniche a un certo tipo di eh possibile intuizione di quello che si sta cercando e quindi sarebbe molto bello evitare ma purtroppo non è possibile. Quindi alcuni sensori sono di paesi del nord americani o israeliani. Quindi noi dobbiamo comprare questi sensori e e poi integrarli a bordo del veicolo cercando di travasare il meno possibile delle delle informazioni. È evidente che eh nello scenario delle operazioni speciali eh oggi si lavora sempre di più in contesti interforze e quindi anche a livello di comunicazioni e scambio dati è necessario eh correre ecco. Eh ci stiamo muovendo per eh individuare possibili soluzioni che rendano le nostre piattaforme per piattaforme come intendo il veicolo eh in una maniera più eh automatizzato assistita eh è possibile tramite l'autopilota e dati sistemi di bordo pensare a un mezzo non pilotato. c'è un importante programma appunto legato ai nuovi sondagibili U212 gli NFS che devono che devono consentire il trasporto e l'integrazione dei mesi speciali del GOI. Eh OCCAR in quanto sezione appaltante sta coordinando questo gruppo di lavoro che vede ehm la necessità di allineare i programmi pluriannali sia dei battelli appunto dei sottomarini che delle forze speciali. Sono due programmi che eh la divisione di Navarm sta portando avanti e proprio in questi giorni con l'ufficio studio di Consubin appunto OCCAR e Navarm si stanno coordinando anche con lo Stato Maggiore Marina le specifiche tecniche per i nuovi sistemi di interfacciamento che come vi dicevo prima già tengono conto delle possibili espansioni che devono avere sia i sottomarini che eh i nostri mezzi per quanto riguarda il supporto alle alle operazioni speciali. E posso dire eh che siamo all'avanguardia a livello mondiale come come gruppo di lavoro. Stiamo anche lavorando eh domani avremo un'altra riunione su un programma di cooperazione internazionale con un'importante marina del Mediterraneo per l'acquisizione di un eh mezzo non pilotato che dotato di sensori veramente veramente performanti eh nel campo sia delle comunicazioni eh del C4 che nel campo ISR. È un programma che vede il segretariato generale della difesa eh molto forte e eh si sta cercando di creare con questo paese una una condizione che che vede le aziende nazionali e le aziende estere sullo stesso piano dal punto di vista della fornitura. Noi siamo stati interessati eh per la realizzazione di un sistema di rilascio e di recupero altamente automatizzato per evitare il supporto del personale tecnico in acqua. Eh siamo ovviamente in grado di costruire anche dei sistemi di questo battello ma per il momento ecco stiamo lavorando in questa direzione. Usandomi usando poi il il vostro tema come ispirazione ho cercato di eh dare un punto di valutazione ovviamente personale di di quello che è questo scenario. Eh Capi Perani è stata chiusa lavorando esclusivamente su questi prodotti nazionali eh non 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 ho mai parlato con l'esterno non ho mai potuto occuparsi di altre attività salvo quelle di cui vi ho parlato prima. Quindi nel duemila diciassette siamo stati incoraggiati incoraggiati ad aprirci per individuare possibili forme di di finanziamento visto che i contratti con la Marina richiedevano tempi lunghi la disponibilità sapete benissimo è quella che era e quindi con un grandissimo supporto da parte del segretariato generale della difesa abbiamo partecipato a C-Future nel duemilasedici nel duemiladiciotto e eh poi a Euronaval. Abbiamo esposto la prima batteria litio utilizzata su mezzi veri nel duemilasedici a C-Future è è del duemila quattordici che l'abbiamo installato a bordo nei mezzi. Quindi in questo caso possiamo dire che pur acquistando le celle dall'estero perché come sapete ancora non ci sono fabbriche in Italia di una certa dimensione tutta la parte relativa alla sicurezza quindi eh il sistema di controllo dell'energia della batteria e di ricarica è tutto nazionale. Abbiamo fatto un grandissimo processo di selezione delle celle ma tutto il controllo è nostro. Con con il seminario che è stato organizzato dal segretariato nel duemiladiciannove sono state poste le basi di un polo nazionale della subacquea che eh innescherà sicuramente un un circolo virtuoso perché consentirà di portare queste capacità a livello internazionale. L'Italia su questo in questo settore è un'esperienza davvero unica. Questa è una foto appunto eh di quel seminario che ha visto per la prima volta sullo stesso tavolo il mondo dell'industria, della ricerca, il mondo militare, l'università. È stata una sessione davvero davvero interessante che ha permesso anche a noi che lavoriamo nel settore di di conoscerci. Ora nell'ambito di di questo possibile eh sviluppo del polo della subacquea si è cercato di eh iniziare a individuare quali quali possono essere i possibili eh terreni di scambio di apparecchiature, di esperienze. Noi noi stiamo lavorando ad oggi eh con un'azienda del nord Italia che sta lavorando su un programma per un paese estero che conoscete sicuramente e alcuni dei nostri sistemi che sono ovviamente immersi in acqua possono essere utilizzati a bordo di questi midget perché sono comunque all'esterno del del battello. Quindi questo sarebbe già un modo di condividere costi in ricorrenti e per queste aziende che li utilizza di evitare lunghi tempi di sviluppo e e di ricerca. Eh ci siamo posti delle domande perché quando abbiamo cominciato a sederci attorno a un tavolo no? Eh per cominciare a dire ma eh cosa fai tu? Cosa faccio io? È evidente che eh lo scopo di ridurre i costi e i tempi eh di ricerca e sviluppo è è incommiabile. Eh stavamo pensando di creare un protocollo comune che regoli comunque l'interazione tra aziende perché ci sono aziende come noi che sono sul campo da ottant'anni, aziende che si affacciano oggi e vorremmo trovare un modo per eh trovare questa questa fascia comune entro cui comunicare ma allo stesso tempo tutelare eh diciamo eh le le esperienze, le singole esperienze. È necessario, lo dico sempre, che noi eh imprenditori o comunque responsabili eh siamo corretti e ci deve essere trasparenza etica perché eh il fatto di costituire questo polo della subacqua deve essere un punto di forza e non un punto di debolezza per per qualcuno. Devo dire che eh Segre Difesa sta facendo un lavoro proprio in questa direzione e eh si vedranno presto risultati. È importante ad esempio regolamentare le eh le trattative all'estero, spesso capita che ci si trova all'estero stesse aziende dello stesso paese, l'Italia comunque è un paese è un paese simbolo in questo settore quindi ci cercano tutti però quando poi c'è all'estero già uno e arriva l'altro ecco a volte poi è antipatico, a volte si sa, a volte non si sa, quindi in questo caso sta anche a noi eh aziende muoverci, muoverci correttamente e usare un po' più i sistemi di coordinamento che ci sono. Bisogna anche riconoscere che a volte sbagliamo noi. Quindi io eh ringrazio ancora per questa per questa audizione. Io penso che avete avete concretizzato quello che è lo scopo della politica e e basandomi su questo invito devo dire a tutti ma soprattutto a me stesso che eh essere qui è un onore dobbiamo fare in modo che il paese all'esterno venga visto eh con questo con questo con questa statura. Per cui l'idea poteva essere creiamo delle linee di prodotto, ognuno di noi nazionali ha una linea di eccellenza, è inutile inventarci, ce l'abbiamo già, muoviamoci in questi ambiti e cerchiamo di andare avanti insieme. Ecco questa era era un po' l'idea. Eh stiamo già lavorando come vi dicevo prima eh con aziende italiane, il sistema paese sta funzionando e ehm in alcuni settori lo stiamo portando avanti diciamo tra 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 di noi. In questo caso l'azienda è la M23 di Bergamo, l'ex GSE che sta lavorando per un cliente estero e fornirà due due Midget. Noi qui forniremo alcuni sistemi già già testati con eh chiaramente il l'autorizzazione governativa. In questo caso invece è un oggetto un po' più piccolo ma decisamente è performante, è un trascinatore, è è è l'evoluzione di quell'oggetto piccolo verde, è un trascinatore che fa una ditta italiana che si chiama Suex e che è dotato di eh prestazioni veramente notevoli ma oltre alla alla capacità di trasporto è eh equipaggiato anche con dei sistemi di di una ligazione di posizionamento molto importanti. Sott'acqua non c'è il GPS e quindi una volta che per il GPS devi usare dei sistemi che si chiamano sempre inglesi scusate dead reckoning e che si basano su dei sensori che oggi sono molto evoluti ma non hanno comunque la precisione di un GPS. Sono molto precisi. In questo caso abbiamo interfacciato con il nostro shelter questo eh scooter si chiama e eh forniremo l'energia per la ricarica delle batterie e la possibilità di scambiare dati con l'interno del sottomarino sul quale è installato lo shelter. Vado veloce. Quindi eh per quanto riguarda la standardizzazione di cui di cui si sente parlare molto eh anche qua ritengo sia eh fondamentale evitare doppioni. Ci sono dei componenti utilizzati in ambito della subacqua che sono tranquillamente eh utilizzabili da più aziende. Parlo di connettori, valvole, alcuni componenti che che utilizziamo tutti. Alcuni di questi sono anche sicuramente utilizzabili per uso duale. Parlo dei mezzi di soccorso, penso a a tutto quello che serve oggi per tutelare il dominio subacqueo. Parlo di tutela dell'energia, tutela dei dei cavi per le comunicazioni. Sapete benissimo eh quanto oggi sia importante il dominio subacqueo e ci sono tantissime aziende italiane che stanno lavorando. Qui sicuramente c'è modo di di condividere esperienze. Una una osservazione che mi veniva dal confronto che a volte facciamo quando parliamo tra di noi anche all'estero. Dice ma ma sai voi italiani avete dei mezzi molto costosi. Ora eh torno un discorso che facevo prima. Eh il livello di specializzazione del gruppo operativo in cursori è top. Il livello di specializzazione che può avere una nuova forza speciale che si affaccia per la prima volta sul mercato è basico. Quindi è evidente che facendo un paragone automobilistico adesso non voglio citare nomi e marchi perché poi però immaginiamoci una gran turismo con un'utilitaria. Quindi l'estremizzazione di certe scelte che eh portano a certi risultati diciamo eh inevitabilmente eh alza i costi. E quindi anche in questo caso è opportuno nell'ambito della definizione di queste categorie definire bene qual è il target. Eh so che sono discorsi molto specialistici ma eh li facciamo tutti i giorni ecco quindi si finirebbe con un fallimento. Invece quello che vogliamo noi è supportare proprio questo questo discorso di condivisione. E anche qui stiamo proponendo di creare una base dati comune eh all'interno della cosa della quale muoverci. Eh come come facciamo sistema? Eh bellissima iniziativa abbiamo avuto la possibilità di incontrare eh dei tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche eh dell'Istituto Nazionale di Ottica non sono stato io giuro di Firenze delle competenze incredibili e eh nel nel corso di questa riunione che abbiamo fatto ai tempi con Navarma abbiamo messo sul tavolo alcuni alcuni progetti e l'anno scorso abbiamo presentato un piano nazionale di ricerca militare per per un progetto che si chiama Qsub. Sarebbe la prima volta dove a livello subacqueo si utilizzerebbe un sistema di comunicazione crittografato con tecnologia quantistica. Per dimostrare che sia fattibile noi abbiamo proposto di realizzare proprio un veicolo in questo caso senza pilota e utilizzando un sensore trasmittente trasmittente e un sensore ricevente vogliamo dimostrare che questo scambio dati funziona perché è importante perché immaginiamoci di avere questo sistema di trasferimento di recupero del veicolo sul sottomarino quando devo scambiare dati trasferire un'immagine satellitare o ricevere un nuovo profilo di missione devo essere in grado di proteggere queste informazioni. Ci sono dei sistemi acustici eh ma sono intercettabili un sistema ottico lo renderebbe totalmente protetto. eh un altro esempio di sinergia è eh il supporto che che noi riceviamo eh da da Consubin quindi la marina limitare da Navarne per lo sviluppo di alcuni eh prodotti. Quindi noi facciamo lo progetto eh ovviamente per questioni di riservatezza eh dobbiamo spesso muoverci verso il teatro del Varignano dove c'è una grandissima esperienza e eh ricompensiamo questo supporto tramite delle permute eh e per quanto riguarda il discorso delle royalties nel nuovo contratto è stata inserita una clausola che qualora vendessimo qualche prodotto derivato dalle esperienze parzialmente eh pagate dalla marina militare corrisponderemo delle delle royalties. Eh ci teniamo molto a dire che abbiamo assunto il miglior collaudatore della marina militare che una volta andato in pensione era ancora giovane eh è stato assunto da cabicattano e lavora con noi. Questo è comunque un modo di tenere per tenere le informazioni ristrette. Per quanto riguarda le considerazioni sulla difesa europea chiaramente non abbiamo un'esperienza diretta per il progresso che abbiamo e riceviamo costantemente informazioni dal 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 segretariato e ovviamente per poter accedere ad alcuni ad alcune gare è necessario condividere alcune informazioni e eh ci siamo trovati un po' in difficoltà in alcuni casi dovendo trattare commesse ad alta classifica. Quindi eh in certi casi appunto dovendo proteggere il contenuto tecnologico e il patrimonio diciamo del paese eh in certi casi ci tiriamo indietro perché è un ambito molto particolare. Mentre appunto per altri settori trova terreno fertile per il nostro settore è un po' più difficoltoso ma lo scopo è prima di tutto proteggere quello che facciamo. Eh io ho finito, vi ringrazio ancora, eh spero di non aver fatto troppa confusione e di aver contribuito in qualche modo a chiarire un po' gli aspetti. No grazie, grazie Presidente Villa, grazie per il suo contributo, per la relazione anche appunto espossa anche per aver descritto l'immagine dell'azienda attraverso un escluso storico dell'evoluzione tecnologica. Io do subito la parola ai colleghi, alla collega Occhionero per l'intervento, prego collega. Grazie Presidente, grazie Presidente Villa per la sua relazione e il contributo prezioso che dà al lavoro della nostra commissione e per il lavoro che svolge nella sua azienda anche perché ha parlato della necessità di rendere sempre più funzionante e sicuro il nostro sistema paese e quindi grazie per questo. Prendo un attimo spunto dalla conclusione della sua puntuale relazione per porle una domanda e fare anche una breve relazione. Abbiamo visto che la cronaca degli ultimi giorni, degli ultimi tempi ci parla di una sfida sempre più complessa dei conflitti asimmetrici che richiedono assetti specializzati come le forze speciali sempre più frequenti, no? e anche mi viene da pensare la minaccia al Mar Mediterraneo, in generale i mari generalmente intesi è sempre più pressante anche negli ultimi giorni, sono notizie che ci preoccupano e anche l'uso sempre più frequente, mi è parso di comprendere, di questi sottomarini, tascabili, i midget come si chiamano, ecco. Poi ha parlato di collaborazioni con il CNR e con il Piano Nazionale di Ricerca Militare e quindi penso a questo, quali investimenti, quali cioè le risorse della ricerca sono sempre più necessarie, quindi in che termini investiamo o si stanno evolvendo gli investimenti e la ricerca stessa per far fronte a queste nuove esigenze. Poi ecco una considerazione, non so se posso permettermi, ha parlato spesso di profili di segretezza, no? Ecco, ha parlato anche facendo riferimento all'ultima parte della sua relazione e mi viene da pensare che la sua azienda è un asset strategico nell'high tech e penso che negli ultimi giorni sono sempre più frequenti gli attacchi cyber che ha scopo, no? Proprio di destabilizzare e di spionaggio soprattutto di questi settori strategici. Allora mi chiedo, non pensa che la sua azienda proprio per il profilo strettamente high tech e quindi strategico possa essere, come dire, soggetto ad un attacco cyber o se non lo è stato già, in questo caso siamo pronti per affrontarli e ridurre ai minimi i rischi che ne potrebbero derivare? Grazie. Bene, grazie collega Occhianero. Io non ho altre richieste di intervento, pertanto do adesso la parola al nostro ospito, al presidente Villa, chiedendo, ecco, noi alle, diciamo, alle 11.45 dobbiamo poi passare ad un altro argomento dell'ordine dei lavori, quindi chiedo, prego, prego, presidente. Salve velocissimo, grazie, domande molto articolate, cercherò di rispondere per quanto possibile. Parto dall'ultima, siamo pronti, domanda interessante. Dunque, innanzitutto, tra le informazioni di cui possiamo parlare poco, riguardo la struttura delle reti cabi. Ovviamente noi siamo abilitati, abbiamo tutto quello che serve per lavorare in campo della difesa con il livello di classifica che ci è riconosciuto. Quello che le posso dire è, al momento non ci risulta nessuna minaccia, ma come sappiamo questo non è significativo, noi agiamo prima di tutto sulla sicurezza fisica. Allora, innanzitutto, la totale assenza di comunicazioni delle reti classificate con il mondo esterno, vietata totalmente, non esiste proprio. Grandissimo lavoro sul personale, selezione del personale, fidelizzazione del personale, controllo del personale, personale che è consapevole di quello che fa, di quello che rischia e di che cosa espone, perché in realtà vive nell'azienda, quindi un'eventuale divulgazione di notizie mette a rischio anche il personale stesso. Il modo che crediamo più sicuro è proprio quello di proteggere fisicamente. Io sono stato funzionario della sicurezza, sono ancora funzionario della sicurezza dell'azienda e ho sviluppato internamente la prima camera CIS, una volta si chiamava EAD, e fin da allora noi abbiamo questa protezione che all'interno della fabbrica è in una stanza all'interno dello stabilimento e totalmente isolata dal resto. Per quanto riguarda appunto l'infrastruttura di rete che vede l'esterno, è quella dedicata agli aspetti più gestionali che sono praticamente tipici dell'azienda. Quindi non c'è nessun tipo di comunicazione, poi ovviamente in azienda ci sono dei controlli che impediscano qualunque tipo di piatto. Ok, adesso vi posso dire che c'è la massima attenzione su questo settore. Siamo in un assaggio strategico, ne siamo consapevoli. Il 22 di aprile quando ho siglato l'atto di acquisizione delle azioni, tutto ciò è avvenuto dopo la procedura della Golden Power, alla quale appunto ho partecipato, abbiamo avuto un'audizione con tutte le agenzie, quindi abbiamo avuto modo di spiegare bene quello che è la situazione. Per quanto riguarda gli investimenti in ambito PNRM, in ambito CNR, allora è stata un'esperienza fantastica vedere queste persone che lavorano nella ricerca pura e vedere che tipo di passione hanno quando trovano gente come noi che le cose le vuole mettere in pratica domani. Sono due modi di pensare completamente diversi e devo dire che quando ho messo sul tavolo il fatto che noi volevamo realizzare un oggetto e non mi sarei accontentato della prova in laboratorio, sono stati entusiasti. Quindi la parte nostra del PNRM sarà la costruzione di questo oggetto. Speriamo che possa essere finanziato in fase finale di valutazione. Ovviamente come sapete l'investimento è a metà carico dell'azienda e qualora venisse approvato a metà a carico della difesa. Spero che funzioni e ovviamente ho detto chiaramente che potrebbe non funzionare perché qua siamo proprio in un ambito totalmente innovativo, però sicuramente ci farà fare un passo avanti rispetto a quella che oggi è la tecnologia totalmente acustica. Ci sono già dei sistemi ottici, ma non con questo livello di protezione dei dati. Per quanto riguarda i midget, sì le minacce sono forti. Anche qua, torno un po' al discorso dei veicoli più in ambito cabi, quelli bagnati, non è sufficiente avere un midget per avere questa capacità. Spesso alcuni paesi li acquistano come deterrente. A volte appaiono delle notizie, quasi con dispiacere che non volevo che uscisse questa notizia, però di fatto poi questa notizia che è uscita consente di dire io uno schermo ce l'ho. Ora, i midget di fatto sono delle piattaforme, i sistemi di armamento e l'esperienza degli equipaggi sono quelli che veramente fanno una differenza. Per quanto riguarda la minaccia simmetrica, sì, lo sappiamo da una vita. D'altra parte, Rossetti e Paolucci, quando hanno fatto la mignatta, era perché si trovavano di fronte a questa enorme differenza di forze. Grazie, spero di aver risposto a tutto. Bene, grazie. Io ringrazio il Presidente Villa per la disponibilità, rinnovo i ringraziamenti per il contributo che ha fornito ai lavori della nostra Commissione e anche per l'invito per un'eventuale visita. Ringrazio tutti gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie ancora. Grazie ancora. Grazie a tutti.